Natale. La sera della vigilia l'emozione della musica si intona ai colori della festa. Al concerto di Natale in Vaticano, quando artisti da tutto il mondo si uniscono in un canto d'augurio e di speranza. Dall'aula Paolo VI in Vaticano, Cristina Parodi presenta il nono concerto di Natale in Vaticano. La sera della vigilia all'eventura su canale 5.